Giovanni Petro, un cavraro, un pecoraro, tutto il giorno stava sull'Alpe e non si muoveva di là. Non è cosa semplice misurarsi con un capolavoro che valso il premio Nobel al più grande giullare dei nostri tempi, Dario Fo. Qui vede in giunco la faccia simpatico di grande per fare il giullare. Ma sono tanti i giovani attori che raccolgono attualizzandola l'eredità lasciata da mistero Buffo, la celebre serie di monologhi a sfondo religioso, satirici, grotteschi, ispirati alle giullarate della migliore tradizione popolare medievale e ai lazzi e canovacci della commedia dell'arte. Trentenne, pieno di talento, Mattias Martelli entra pienamente nel gioco multilinguistico del gramelò e della gestualità scenica reinventati da Dario Fo, felice esito della folgorazione avuta da bambino quando vide un mistero Buffo registrato su VHS. Questo attore solo sulla scena, senza scenografie, senza proprio niente, solo con la mimica, la gestualità, la vocalità faceva immaginare mondi e personaggi incredibili e mi ha fatto proprio innamorare del teatro. Quanti anni avevi? Avevo su dieci anni più o meno. Ancora sovversivo? È ancora sovversivo, è un testo molto rivoluzionario, ancora molto provocatorio. Una delle nostre giullarate è il primo miracolo di Gesù Bambino che racconta di un bambino, Gesù, che deve emigrare con la famiglia e si trova in una città straniera e viene trattato come un bambino straniero, cacciato dagli altri bambini. Potrebbe essere scritta oggi una giullarate del genere, di un'attualità spaventosa, ma anche le altre giullarate. Dietro c'è un grande lavoro, non soltanto sul linguaggio ma anche sul corpo. Ecco, fisicamente in che modo si lavora per diventare come Dario Fo? C'è un lavoro molto disciplinato, molto tecnico, che poi però sul palco deve essere reso come se fosse inventato in quel momento. Questa è forse la più grande difficoltà di questo lavoro. Ogni secondo, ogni due o tre secondi cambia postura perché cambia il personaggio, cambia il lavoro nello spazio, cambia lo sguardo, la traiettoria dello sguardo. Il lavoro registrico lì diventa assolutamente fondamentale. Entrando dentro l'opera si sono svelati tutti i meccanismi del teatro che Dario Fo ci ha presentato per tanti anni a tante generazioni di attori. Sì, tu vedi l'attore da solo che interpreta i personaggi, ma intorno a lui vedi la scena che si sta muovendo come se ci fosse, come se esistesse. Questo credo sia la lezione più importante, soprattutto da continuare ad indagare nel lavoro dell'attore. Cesti, coi cavani, coi ungi, c'appravano la terra da partito, anche dai cimiteri. Bella la terra dei morti, grassa impienita dei vermini.